Poncio è un cane molto intelligente che sta facendo sempre più progressi. Poncio è un cane con una splendida e complessa personalità e quando ti offre la sua amicizia quello è un dono veramente prezioso. Poncio è una grande soddisfazione perché quando sono entrato era un cane molto diffidente e invece adesso si è lasciato completamente andare è diventato coccolosissimo. Poncio per me è ancora una scoperta perché è un cane con cui ho interagito un pochino di meno quindi spero prima o poi di farci amicizia. Poncio è un cane sorprendente, dietro alla sua scorza da duro si nasconde in realtà un cane dal cuore tenero. La diffidenza è una componente del suo carattere ma con la giusta leadership quindi con una guida coerente e autorevole è in grado ormai di affrontare qualsiasi esperienza e qualsiasi novità. Il suo percorso di generalizzazione procede ormai a gonfie vele infatti Poncio riesce ad interagire serenamente con molti dei volontari ormai anche in quelli che erano i momenti più stressanti per lui come l'entrata e l'uscita dalla casetta. Sono veramente molto orgogliosa di lui e non vedo l'ora che trovi una casa e la sua famiglia per sempre. Ciao!